E per continuare a diffondere questo messaggio dell'importanza della musica, dell'importanza di stare insieme eccezionalmente andando verso la Pasqua, noi abbiamo qua l'organico ridotto, per ovvi motivi questa sera abbiamo deciso, sebbene a distanza, di rifar suonare insieme tutti quanti i componenti della band. Vado all'aperto! Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!